Pubblicata la manifestazione di interesse per la composizione del nuovo consiglio di amministrazione che sarà capo di Barsa S.p.A., l'azienda di servizi ambientali del comune di Barletta, la municipalizzata non avrà più un amministratore unico dopo la revoca dell'incarico precedentemente assegnato all'avvocato Michele Cianci, bensì un collegio di tre unità che si occuperà dell'impresa cittadina a carattere ambientale. Daremo 15-20 giorni, coloro i quali intenderanno voler far parte di questa squadra avremo 15 giorni o 20 giorni quindi procederemo alla nomina del nuovo CDA che sarà composto da tre professionisti che dovranno rispondere ai bisogni dell'esigenza della Barsa. Ad individuare i soggetti idonei sarà lo stesso sindaco di Barletta Cosimo Cannito sulla base dei parametri fissati nella manifestazione di interesse, laurea, competenze tecnico-amministrative con certificazioni professionali, l'assenza di condanne penali, nessun vincolo di parentela fino al quarto grado con sindaco, amministratori comunali e consiglieri sindacali Barsa, il non ricoprire essi stessi tali cariche. Il compenso per i prescelti sarà complessivamente di 50.000 euro annui. È una società inattivo, una società sana, una società che lavora ovviamente però se i cittadini si lamentano e ha giusta ragione dei rifiuti per strada questo non è soltanto da debitare alla Barsa ma è anche da debitare a certe volte alla incevità dei cittadini ai quali io continuerò a chiedere sempre aiuto e sostegno e collaborazione.